Ferrovie dello Stato ha recepito la lettera da parte della senatrice Felicia Gaudiano, del senatore Francesco Castiello e di Michele Cammarano del Movimento 5 Stelle, presidente Commissione Aree Interne Regione Campania, sulla necessità di attenzionare la stazione di Capaccio Roccadaspide, nella quale sono state segnalate numerose criticità in merito al sottopassaggio pedonale con l'invito ad intervenire. Ferrovie dello Stato ci ha aggiornato sullo stato dell'arte degli interventi di rifacimento della pavimentazione dello stesso, ha scritto Felicia Gaudiano, sul ripristino del fabbricato viaggiatori e degli altri fabbricati accessori sui vari lavori provvisori per mitigare i disagi dei passeggeri. Ma l'obiettivo e la soddisfazione più grande è stata la comunicazione che ieri mattina abbiamo ricevuto da Ferrovie dello Stato, che ha formulato la richiesta di un finanziamento da 780 mila euro per la realizzazione di un sovrappasso indispensabile nella stazione di Capaccio Roccadaspide. Da parte nostra, come accaduto in merito all'aeroporto di Ponte Cagnano, resta massima l'attenzione sulle infrastrutture dell'area, la quale su questo fronte vive un ritardo di anni e anni. Attenzione che si inserisce su quella più ampia per tutto il meridione in sede di Recovery Found nei pareri espressi al PNRR di questa settimana e quindi abbiamo evidenziato la necessità di accrescere le risorse da destinare alle grandi opere per il Sud, al fine di aumentare l'intermodalità tra strade, ferrovie, porti e aeroporti necessaria per colmare il divario con il resto del paese.